... Immagino che la musica sia sbagliata motivo per il quale la ginasta non è partita la campione del mondo in più una posizione che non è molto difficile la posizione è molto difficile a tenere non posso essere male per gli organizzatori ma è anche molto difficile lì le donne 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 non Grazie a tutti. 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 I got to... a tutti. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...